Buongiorno a tutti, oggi parliamo del fenomeno del ghosting, cioè quel fenomeno per cui le persone diventano come dei fantasmi, improvvisamente non si fanno più vedere, non si fanno più sentire, spariti. Quindi ormai siamo molto abituati al ghosting, cioè la sparizione delle persone è diventata per noi quasi normale, sarà il fenomeno dei social media, sarà internet, sarà quello che vogliamo, però di fatto siamo abituati che le persone spariscono, siamo abituati che le vedi oggi ma non sai se le vedrai domani. Io stesso sono abituato, l'altro giorno ho visto una persona da me in studio, la prima volta che la vedevo, abbiamo chiacchierato un po' di tempo, molto gentile, molto simpatica, molto contenta. Ecco io non sono affatto sicuro che la rivedrò questa persona e questo è diventato normale, è stato un incontro che è cominciato, è finito e magari non succederà più, non rivedrò mai più quella persona, non lo so. In realtà non è normale, in realtà noi tutti vorremmo che le persone non sparissero. Mi è tornato in mente che Sant'Agostino scriveva che i vostri morti non sono morti, si sono solo resi invisibili ai vostri occhi. Da allora oggi è passato tantissimo tempo, proprio come abitudini mentali che abbiamo, cioè non solo noi pensiamo che le persone morte siano sparite, ma anche che gli incontri fatti qualche giorno fa siano svaniti nel nulla, che tutto questo non ci sia più, cioè che non ci sia una costanza di presenza. Sant'Agostino se diceva queste cose era perché sapeva benissimo che tutti abbiamo bisogno di questa presenza, cioè che una volta che un incontro è stato fatto deve rimanere nel tempo e che nulla se ne va. Noi invece ci stiamo abituando a pensare che tutto se ne va, ma allora in fin dei conti se tutto se ne va, noi saremmo sempre soli. Questo è il problema, perché tutto ci lascia. E l'abbandono è il tema di oggi, è il tema di questa epoca, in cui le persone diventano fantasmi, i fatti sono ormai passati, è tutto passato. E pensate a quanto lavoro ci vuole per avere un incontro ormai solo sui social, quindi un incontro che è fatto o non è reale, non è coinvolto il nostro corpo. E in questo incontro magari saranno pochi secondi. Pensate all'abitudine di scorrere sullo schermo del telefono. Che lavoro viene fatto dalle persone per avere un attimo in più di attenzione, per essere visibili. Allora, per un attimo di visualizzazione c'è un lavoro pazzesco, un sacco di tempo per avere che cosa? Qualche secondo di attenzione. Poi l'attenzione svanisce e quello non c'è più, basta, finito, bisogna farne un altro. In realtà tutti noi stiamo mendicando questa cosa, cioè stiamo mendicando qualche momento di attenzione. E per fare questo siamo disposti a tutto, siamo disposti a dedicarci lavoro, tempo, energie. Tutto questo è molto bello, ma è il risultato che è pochissimo. Un'altra cosa che oggi succede spessissimo è che pur di avere attenzione si può facilmente manipolare la realtà. Oggi possiamo fare di tutto, possiamo renderci tutti molto belli attraverso i filtri, molto diversi da come siamo in realtà. E quindi chi ci guarda non sa mai se quello che vede è vero o è fasullo. Questo è un altro motivo per cui non c'è molto da fidarsi. Di che cosa mi fido? Quello che vedo potrebbe non esistere. Tutto potrebbe non esistere. È tutta una grande illusione. Questa è la sfiducia di oggi. Che quello che vediamo sia falso. Che l'incontro che facciamo sia falso. Quindi è ben comprensibile che tutti si domandano ma a chi posso credere? In questa situazione così evanescente di chi posso fidarmi? Chi è affidabile? Domani non ci sarà più. Però tutti noi sappiamo che abbiamo bisogno di essere visti. Abbiamo bisogno di qualcosa in più, di una semplice visualizzazione. Abbiamo bisogno di essere guardati. Che le persone siano presenti. Il bisogno ce l'abbiamo. Il desiderio anche. Il problema è come fa ad accadere oggi. Se c'è una cosa evidente, i dati lo dimostrano, è che stanno sempre di più aumentando gli attacchi di panico. Quando c'è stato il lockdown sono esplosi gli attacchi di panico. Ma perché? Perché nel lockdown siamo stati tutti più soli. Non avevamo più la possibilità del contatto reale. Siamo stati isolati dagli altri. E pur di avere attenzione abbiamo provato di tutto, ma di fatto eravamo soli. Il problema oggi è l'abbandono e la solitudine. Che quello che avviene sia solo un attimo fugace, ripeto, pochi secondi, quelli del tempo per cui facciamo scorrere il ditino sul nostro schermo del telefono. Poi tutto sparisce. Allora, guardate che tutto questo non è la normalità della vita. Siamo in questa situazione e dobbiamo trovare un rimedio. L'esperienza del ghosting, credo che ormai sia un'esperienza di tutti, questa cosa che provoca delusione, ma a cui ormai siamo abituati, e ripeto, non è normale che sia così. Mi piacerebbe tanto sapere come voi vi siete abituati e perché vi siete abituati. Raccontatemelo se volete. Ho fatto dei video sulla solitudine, ho fatto dei video sull'abbandono, vategli a vedere se vuoi, e ne parleremo ancora, perché l'argomento del nostro stare in rapporto con gli altri ha anche questa sfaccettatura che è molto importante. Pensaci.